La nostra protesta innanzitutto non nasce oggi, ma noi sono tre anni che protestiamo per chiedere l'attenzione dei palazzi di governo alla problematica del mini eolico. Nella fattispecie Piani del Mattino sarà interessata dall'installazione di 52 pale eoliche che andranno a costituire un vero e proprio parco eolico. I cittadini chiedono alle amministrazioni certezze, certezze su alcuni punti importanti che riguardano la vita di ogni cittadino, quindi la sicurezza perché queste pale sono state installate a ridosso di strade e di abitazioni. L'imbatto acustico che oggi già ci vieta di stare nelle nostre case con le finestre aperte perché sono rumorosissime, quindi noi chiediamo a viva voce che venga fatto un monitoraggio sull'imbatto acustico. E ultimo punto importante, noi chiediamo a viva voce un presidio permanente delle forze dell'ordine perché i divieti che ci sono lungo le nostre strade vengono continuamente elusi, anche di notte. Oggi siamo contenti perché oltre ai piani del mattino abbiamo visto che la protesta si sta allargando, sono intervenuti il costituendo comitato di Montocchino, di Oppido Lucano, di Contradabotte, quindi la problematica non è solo di piani del mattino. Noi abbiamo intenzione di continuare la nostra protesta perché ribadiamo, noi vogliamo che i palazzi di governo ci tutelano i nostri diritti di cittadini. Colgo l'occasione, l'ho già detto tante volte, noi non siamo contro l'eolico, anzi siamo favorevoli perché è una fonte rinnovabile, noi contestiamo questo eolico selvaggio che è stato fino al 15 marzo usato per speculazioni senza nessuna regola a danno dei cittadini che vivono sotto queste pale eoliche. Oggi al municipio di Potenza la consegna delle tessere elettorali e delle chiavi, il senso di questa protesta? Beh, un senso non molto allegorico, reale, nel senso che vivere in un parco eolico non si può, non è consentito, soprattutto se lo si fa passare per un mini eolico. Noi non possiamo vivere dentro 51 paleoliche e quindi quello che possiamo fare è lasciare le nostre abitazioni. Per non arrivare a fare questo cerchiamo un'interlocuzione ma ci sembra che il tempo sia veramente pochissimo, rimasto pochissimo, una devastazione territoriale, una non sensibilità non solo per l'ambiente ma anche per le persone e uno sfregio a quello che è invece tutelato dalla Costituzione e dal codice dei beni culturali che è il paesaggio di cui dovremmo vivere, soprattutto la Basilicata. Noi chiederemo la sospensione dei lavori in autotutela così come chiediamo l'immediato fermo per le pale che sono da installare, ma chiediamo anche che su quelle già installate ci sia un monitoraggio acustico. Sappiamo però che queste richieste oggi non verranno sicuramente esaudite per cui da tre mesi, notte e giorno siamo in strada, continueremo a farlo.